Domani si decidono le sorti di Berlusconi, sorti che sembrano essere segnate quanto alla pronuncia della sua incandidabilità, quindi all'impossibilità di continuare a rimanere in Parlamento. Nel PDL il dibattito è quanto mai aperto e si rischia la spaccatura netta tra i berlusconiani e gli alfaniani e che succederà a livello locale, quali contraccolpi e con noi in studio l'onorevole Eugenio Minasso, allora che sta succedendo in questo PDL? Il PDL sta attraversando sicuramente un momento di grande travaglio perché in effetti è un partito al contrario di quello che forse tanti immaginavano e pensavano, l'ha detto anche il Presidente Berlusconi durante la conferenza stampa, non è un partito di plastica ma forse si è trasformato in un partito in carne ed ossa, quindi nei partiti di carne ed ossa si discute, si litiga e si cerca di trovare la soluzione. E i contraccolpi quali saranno? Lei con chi sta, con chi starà, chi sosterrà, Berlusconi, Alfano? Diciamo che la situazione è complicata ma in questo momento non c'è una divisione vera e propria, ci sono quelli che hanno fatto delle scelte nette, che sono quelli che li chiamano i lealisti e i berlusconiani, diciamo che ci sono anche una parte di persone che ancora non hanno fatto e non vogliono fare una scelta, perché la loro scelta è stata chiara nel momento in cui è nato il PDL, quindi la scelta è di creare un grande partito di centrodestra sul solco del Partito Polaro Europeo per cercare di creare e costruire un partito dei moderati italiani. Quindi io faccio parte di quel gruppo di persone che penso che oggi sia ancora il più numeroso all'interno del PDL che vorrebbe che questa, chiamiamola spaccatura, questo contrasto che c'è all'interno del PDL venisse risanato, venisse riportato a una discussione interna del partito e che si possa attraverso un confronto in un'assemblea nazionale riportare nel solco della discussione politica e non della spaccatura e della scissione. Trasferiamo il tutto a livello locale anche perché ci sono delle elezioni ormai quasi dietro l'angolo, penso a Sanremo, Ventimiglia, non soltanto quelle. Qui che succederà, che cosa farete e soprattutto lei a Scaiola continuate a essere distanti oppure cominciate a parlare? Diciamo che per quanto riguarda le elezioni amministrative riuniremo, io penso, a breve la direzione provinciale che poi non spetta a me perché io sono nel coordinamento regionale e sono il coordinatore regionale, però io sono convinto e sono certo che come è stato fatto a Savona da non molti giorni verrà convocato un direttivo provinciale dove si comincerà a parlare dei comuni che vanno alle elezioni e che è chiaro che Ventimiglia e Sanremo catalizzeranno l'attenzione perché sono sicuramente i comuni più importanti, ci sarà anche Riva Ligure, San Bartolomeo, insomma ce ne sono diversi i comuni che vanno alle elezioni, quindi dovremo parlare di tutti. Naturalmente cercheremo di scegliere il candidato migliore, il candidato più vincente, quello che da un po' di tempo che stiamo ribadendo durante le nostre riunioni dobbiamo cominciare a mettere da parte appunto le divisioni che non ho mai amato, come adesso io non mi considero né un Berlusconiano né un alfaniano puro sangue, non mi sono mai considerato neppure un minassiano o uno scaiolano e quindi devo dire che secondo me dobbiamo solo esclusivamente cercare di lavorare insieme e trovare il candidato migliore, il candidato che vinca, non possiamo pensare che ci siano delle parti che si confrontano solo esclusivamente per emergere nel momento in cui si decide il candidato sindaco perché decidere il candidato sindaco non è una vittoria, forse può essere una vittoria all'interno di un gruppo ristretto del partito ma poi diventa una sconfitta all'esterno con la gente perché noi dobbiamo scegliere il candidato che la gente può votare, il candidato che può vincere e amministrare una città, non dobbiamo scegliere quello che fa riferimento a uno o all'altro solo perché fa riferimento a uno o all'altro.